ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video è molto speciale perché allora io ho collaborato nella sponsorizzazione cioè nel sponsorizzare il film di prima di te e mi hanno rinviato mi hanno inviato questi bellissimi regali che adesso vi mostro allora come prima cosa abbiamo le calzamaglia d'ape sono quelle diciamo originali quelle che erano disponibili tempo fa credo ad agosto solo per un una due settimane queste calze qui che infatti sono prodotte cioè l'uniche che loro hanno prodotto originali infatti qui c'è scritto me before you aspetta eccovi e di questa marca qui che però non so pronunciare non vi pronuncio perché non vorrei sbagliare e eccole vedi infatti eccole qui originali e bellissimo il tessuto e di questo sono moltissimo contenta poi perché poi sapere poi che era illimitata una cosa illimitata ancora di più quindi sono tanto contenta anche perché io prima di te ho avuto tante soddisfazioni tante tante quindi sono molto contenta un altro ho vinto questa questo libro questo diciamo che l'edizione sia l'edizione inglese infatti guarda un petto riprende una pagina non so se è scritto in inglese e quindi l'edizione inglese che sono contenta di averla ricevuta anche perché in italiano già ce l'ho quindi questo gli mancava e bellissimo poi ho ricevuto anche quest'altra che è una maglia e maniche lunghe che ho scritto me before you in inglese ecco è bellissimo pure questa e sono molto contenta guarda veramente poi ho ricevuto anche questo diciamo che è per il picnic se l'apro guarda guardate adesso ve l'apro faccio vedere che diventa una cosa enorme insomma enorme vedi vedete cioè tipo coperta ecco vuoi fare un picnic all'aperto c'è questo quindi bellissimo che ringrazio anche team word perché diciamo che c'è collaboro anche con loro quindi e team word mi ha inviato anche questo del nuovo film piuma che uscirà dal 20 ottobre al cinema perché c'è scritto ma adesso non mi ricordavo e la paperella che si vede che il simbolo del film no è tanto simpatico per questo vabbè sono tanto emozionato per questi regali perché sono unici davvero e mi piace moltissimo le calzamaglia d'api specialmente molto molto c'è esplodo per le calzamaglia d'api che dire i primi di te dà tante soddisfazioni sia a me che a barone tante tante è capitato sì che il tg5 prendesse anche le nostre voci erroneamente perché è stato un errore però siamo comunque o più che soddisfatti direi emozionati cioè le stelle anche se è stata una cosa un errore vabbè ma chi se ne frega l'errore l'ha fatto loro e sono contenta che anche se l'hanno fatto vabbè è comunque una grande emozione credo che tutti se sarebbero nei miei panni lo si sentirebbero la stessa emozione comunque devo ringraziare ecco questi vi ho mostrato i prodotti ufficiali che mi hanno mandato e sono tanto contenta specialmente per queste però vabbè sì tanto 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 grazie per aver visto questo brevissimo video di mostrare i pacchi comunque grazie ragazzi grazie anche a voi perché ci seguite anche sulle nostre letture sempre sì c'è il mio cagnolino che appena sentito questo aspetta sta giuranzolando qui intorno a me perché anche lui vuole questo vuole la paperella eh vero ok ragazzi alla prossima ciao